amici ed amiche una buona giornata a tutti da un'idea di atp siamo qui oggi per vedere il gioco di pino fox che avevo presentato in anteprima che ha terminato che è terminato quindi lo vediamo completo con tanto di caricamento su real hardware per goderci la musica e io mi faccio e ci guardiamo il caricamento un attimo grazie a tutti 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 dopo aver visto in amati odiati caricamenti una buona giornata a tutti innanzitutto il caricamento che ha terminato il gioco vox adesso andiamo a vedere il gioco perché il gioco è definitivo ha aggiunto musiche l'ha perfezionato ha alzato leggermente il livello di difficoltà ha fatto in modo che tutti i personaggi sparavano l'ha reso un po più difficile e ha completato quello che era già un capolavoro nella versione che mi aveva dato a provare prima la storia ringrazio pinof vox perché io quando avevo provato il gioco quando avevo provato il gioco e ero arrivato alla fine e ero arrivato al boss finale io ho detto pinof ma cos'è quel cos'è quel coso che c'è alla fine al livello secondo me io gli dico pinof secondo me è una ragazzina viziata una ragazzina pazza che è lui intorno a questo ci ha modificato la storia e lo ringrazio ebbene sì la storia degna delle migliori versioni radicola e guardate che non è un insulto questo per me io amo voi chi mi conosce sa che io amo la follia la versione radicola quindi per me è un enorme complimento fatto a pinof e ha modificato la storia più o meno in questo modo le figliastre di uno senza di uno scienziato pazzo mendi e mara le due sorelle cattive hanno geneticamente modificato e creato animali e creature strane e pericolose per uscire nel loro intento cioè conquistare il mondo utilizzando la macchina inventata dal loro padre uno scienziato pazzo il tuo compito sarà quello di fermare questa follia e salvare i poveri porcellini d'india dalla loro scomparsa sì perché il loro obiettivo è quello quindi è tutto un programma comunque sentite la musica cambiamento se io muovo sposto il joystick come sto facendo posso giocarlo il gioco con effetti solo gli effetti speciali ma o con la musica noi con gli effetti speciali abbiamo già giocato l'altra volta ovviamente adesso lo giocheremo con la musica perché si furia l'altro perché la musica complimenti la musica complimenti che ha fatto la musica e ragazzi il gioco con la musica prende prende tutto un'altra un'altra storia il gioco è stato complicato il giusto dal buon pin off perché il problema è che i seuk probabilmente per problema di memoria questo è una mia opinione personale sono sono hanno hanno pochi livelli no quindi quindi giusto complicarlo il giugno di un attimino anche perché sennò poi si fa a finire che in tre partite il gioco lo si finisce e poi e poi perde perde un attimo di rigiocabilità no e per quello oppure bisogna inventarsi insisto la musica che bella che bella che bella fatto le ombre ha creato più più delizioso ancora questo mondo bonus da prendere ovviamente io non finirò il gioco oggi perché è un gioco da acquistare io lo presento ringrazio pinov per avermi dato la possibilità di fare l'anteprima guarda sono andato incastrarmi eh affanculo sono andato incastrarmi per prendere la pillola del e per avermi dato il gioco completo poi perché a me ultimamente questi seuk mi piacciono tantissimo questo mi richiama questo questo è invulnerabile no mi richiama tantissimo questo gioco il livello app eccoli qua i i porcellini d'india li salviamo distruggiamo la gabbiettina e andiamo avanti nel livello quindi lavoro completato di pinov che a me ricordano tanto i pomeriggi quando ci ritroveranno quei giochi particolari nelle loro versioni da edicola che tanto tanto abbiamo colorato il gioco è bello fluido il gioco è bello veloce è bello colorato è una bella esperienza bello sta fermo lì non mi spara in diagonale ok davanti piano cauti guarda quante uova che mi hanno che mi hanno passato giù ecco la musica è con la musica è un'altra cosa è molto molto divertente ha aumentato il livello di dettaglio e si è aumentato il livello di sfida ecco tipo quelle creature fa nell'altra versione queste qualche scompa che scompaiono i blob lì che scompaiono non mi sembra che sparavano invece giustamente qua qua ha fatto su qua 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 sparano perché così è un po' più complicata la storia è giusto che sia così è giusto che sia così quindi io non posso parlare di fare i complimenti appino e cercare di cercare di farvi conoscere questo gioco per andare ad acquistarlo a a contribuire a a a una modica un modico prezzo a per fare in modo che questi programmatori pino e altri programmatori abbiano lo stimolo per andare avanti nella loro opera nel programmare nuovi giochi nel darci la possibilità nuovi giochi sono sono molto deluso sul fatto del gioco che avevo proposto per la video sfida e poi vacciniamo i livelli non farò tutto il gioco eh perché il gioco regala una sorpresa alla fine che che è tutta da scoprire sono molto deluso fino adesso dal fatto che il gioco che ho lanciato in sfida un altro gioco di pin off che ho proposto per la video sfida non l'abbia cagato nessuno ma proprio nessuno io temevo eh che i 3 euro e i 4 euro potevano essere in un grosso ostacolo ma questa per me è una forte delusione è una forte delusione anche nei confronti dello stesso pin off che gentilmente per 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 il fatto lì della sfida l'ha anche scontato il gioco 3 euro e poco ma nessuno ha preso in considerazione questa cosa e questo mi era trista mi era trista veramente tanto perché io volevo il mio obiettivo era non quello di fare fare i soldi a pin off ma è quello di contribuire a questi programmatori perché tutti con le parole sono bravi tutti bravissimi di sostenere sostenere questi programmatori se c'è qualcosa di gratis sono i primi che vanno a proporre il gioco e cercare di fare il figurone ma se c'è anche un euro da pagare la storia cambia infatti io non voglio fare polemica se non parteciperà nessuno la mia video sfida purtroppo che sono che sarebbe una tristezza valuterò poi anche io il la mia partecipazione futura ad altre sfide e questo dico questo mi era tristo molto perché era una cosa molto bella ma oh quel video lì tanti che partecipavano alle sfide per la paura manco l'hanno commentato è sempre un problema di 3 euro li posso mangiare anche io ma passiamo a perdere andiamo oltre livello 4 dai facciamo ancora e parliamo di cose serie parliamo del di quest'opera d'arte di pino no maledetto è invulnerabile questo guardate è tutto belli colori bello colorato mi piace i colori utilizzati richiamano una sorta di di una specie di di fattoria oi muore queste galline modificate dalle gemelle si perché quando arriverete per chi acquisterà il gioco al boss finale sembrano delle ragazzine pazze delle ragazze almeno dopo il comodo 64 i sprite del comodo 64 tendono molto a essere interpretati in base a chi li vede e a me subito mi hanno richiamato le ragazzine alla pipi calze lunghe e pinov invece nell'intento di pinov doveva essere lo scienziato pazzo invece sono sono tanto tanto ragazzine folli probabilmente mi darete ragione se e quando arriverete alle ragazzine pazze troppo bello è proprio il bello anche quello l'interpretazione il comodo 64 era unico anche per quello e faccio anche questo livello e per questo poi veniamo tutto il gioco e mi sto già spingendo anche oltre ma poi mi lascio prendere anche perché visto che ho avuto la possibilità di collegare anche il comodo real viaggio qui stupine lo spano è stato fatto un ottimo lavoro d'ottimizzazione per portare un gioco a noi completo di tutto Dalle musiche Dalla intro Alla musica Alla possibilità di scegliere la musica in game La stellina qui Cos'è? La stellina qui Vuoi che uccideva tutti i nemici sullo schermo Non era una cazzata Non lo so Sicuramente andava a punti bonus Ma Lo dirà Pinoff Cos'era quella stellina lì Andiamo avanti Verso la fine che di questo livello E poi È un gioco da È un gioco da godersi Perché Io l'ho giocato tanto Quindi Da quando me l'ha dato Nella versione di prova Questo L'ho già giocato tanto Quindi Lo conosco Già abbastanza bene Ma è un'esperienza da provare È un'esperienza da provare Supportiamo il buon Pinoff Ma non solo lui Supportiamo tutti i programmatori Soprattutto italiani Che lavorano ancora oggi Nel campo della programmazione Il Tomo 64 Le palle di Pac-Man Infurriate Incazzate Ma noi siamo troppo forti Noi siamo troppo forti Per la palla Delle sorelle Pazze Eccolo qua Eccolo qua Salviamo che Il porcellino d'India È colorato Musiche bellissime Non ricordo che ha fatto la musica Come lo dice sempre Pino Mi perdonerà Per questo Lo scriverò Sotto i commenti Run Rupert Run In versione definitiva By Pino Fox È lì pronto Per essere giocato Anche Da voi Assolutamente Un ottimo Ottimo titolo Divertente Che vi farà Dimenticare per un attimo Tutto quello che gira intorno Vi farà Entrare per un attimo In un mondo fantasioso Proprio come facevamo Noi dei ragazzini Quando andavamo In edicola E comprevamo Tipo queste Tipo queste qui Tipo quelle cassettine Di quella qui Cos'è quella cassettina Di quella qui Il grande libro dei giochi Che scusa sono Magari un giorno Lo scopriremo Per oggi è tutto Ringrazio Pinov di tutto Di tutta la collaborazione Di Tutta la sua semplicità Di tutta la sua bontà E delle sue capacità Per offrirci Questi prodotti È stato un piacere Alla prossima Ciao Ciao Ciao